Buonasera a tutti amici, ben ritrovati su Leo Channel. E' appena terminata la sfida di prestigio tra Real Madrid e Milan, purtroppo abbiamo perso 3 a 1, ma siamo ben calmi, ben calmi, perché è un test, non perdiamoci di morale, non andiamo giù con la morale, piano piano, è un test, è un avversario, con tutto che hanno venduto Ronaldo, sembra ancora superiore a noi del Milan, quindi ben calmi. Io ve l'ho detto, noi ci dobbiamo concentrare solo sul campionato e cercare di strappare questo quarto posto, perché già sarà difficile di per sé, ma non è impossibile, con Higuain non è impossibile, si può sognare questo quarto posto e questo a me mi basterebbe, perché questa ancora non è la squadra da poter competere a livello internazionale. Noi dobbiamo fare passo dopo passo, intanto dobbiamo rientrare di nuovo in Champions per poi poter fare gli acquisti come si devono da Milan. Niente, io purtroppo non ho fatto in tempo a vedere il primo tempo, ho visto il secondo tempo, abbiamo iniziato abbastanza bene, abbiamo avuto anche un paio di occasioni con, mi ricordo con Bacca abbiamo avuto qualche occasione, con il talento di casa nostra, Patrick Cutrone, il mio giocatore preferito per il futuro, io reputo che questo ragazzo prima o poi sarà la nostra bandiera e mi auguro veramente che rimanga al Milan, cresca e un giorno porterà chissà la fascia da capitano. Comunque, sì, però sul finale, ossia la seconda parte del secondo tempo, il Real Madrid una volta aumentato il ritmo non ci ha fatto capire più nulla, perché hanno avuto solo loro il possesso di palle e le occasioni, non abbiamo creato più nulla, quindi tutto sommato, in base a quello che ho visto io nel secondo tempo, l'1-0 è meritato, io parlo solo del secondo tempo, il primo tempo purtroppo non l'ho visto, non l'ho potuto vedere, mi sono perso addirittura il gol di Higuain alla prima partita. Comunque, cosa dire, cosa mi è saltato all'occhio? Mi è saltato all'occhio che un Suso ha fatto le sue solite belle giocate, dove mette bene in azione gli attaccanti, però di Suso non mi piace il suo gioco senza palla, i suoi movimenti senza palla, lì deve migliorare molto, perché Suso la qualità ce l'ha, però è troppo spento certe volte, anche oggi l'ha dimostrato in questa partita, è una cosa che deve migliorare. Bacca, devo dirvi, mi fa piacere che è ritornato anche al Milan, perché ci potrà servire, oltre a Higuain, un altro attaccante, altri attaccanti, perché abbiamo anche Cutrone, che ci possono fare dai 10 gol in su, dai 15 gol, una quindicina di gol, ci servono sempre, quindi non vendiamo Bacca, per me mi sta bene se Bacca rimane da noi. E poi mi è saltato all'occhio un certo Vinicius, però, del Real Madrid, ragazzi, ha 18 anni, mi ha impressionato, ha un gran futuro davanti a sé di sicuro, se lavorerà bene. E poi cosa volevo dirvi? Ah, ragazzi, notizia importante, sono sbarcato da poco su Instagram, quindi vi invito tutti quanti ad iscrivermi sul mio canale Instagram, qui sotto, se non sbaglio, speriamo che col dito vado bene, vi dovrebbe spuntare il nome del canale, ma vi lascerò comunque il link sotto nelle descrizioni, nella descrizione, in cui vi potete iscrivere sul mio canale, o account Instagram di Leo Channel, così, insomma, rimarremo più a contatto. Se in caso non l'avete, fatevelo questo account, così vi potete iscrivere al mio account. Niente, non prendiamocela troppo, sicuramente una sconfitta è sempre una sconfitta, specialmente in una partita prestigiosa, perché credo che tutto sommato, tutte e due le squadre volano vincere la partita, però il Real Madrid, ragazzi, è inutile, è ancora di un altro livello. Noi dobbiamo concentrarci sul campionato, arrivare quattro, assolutamente. Io credo anche che nella sessione invernale del calcio e mercato dobbiamo fare qualche acquisto e lo faremo, perché se fino a lì saremo a buon punteggio e mostreremo di poter dare una certa garanzia ai giocatori futuri, qualche colpo big, secondo me, arriverà. Quindi noi quest'anno il quarto posto ce lo possiamo giocare. Non è facile, ci sono altre squadre, non siamo forse la quarta forza, ma possiamo infilarci lì dentro, ed è importante. Cosa aggiungere? Purtroppo non ho più nulla da dirvi, purtroppo, non mi viene niente in mente, quindi vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, all'account, nemmeno so come si dice in italiano, penso che si tratti in questo caso di un account, Instagram, e per questo video è tutto, forza Milan sempre nel cuore, e ci vediamo al prossimo video. Un caro saluto dal vostro Leo.